Veniamo ora a un tema cruciale per quello che interessa questo corso, tema al quale abbiamo più volte accennato nel corso delle elezioni precedenti e che rappresenta un po' la svolta conclusiva del nostro discorso. Il tema è la guerra sociale. Prima di procedere esaminiamo rapidamente il senso di questo termine, guerra sociale. È da dire subito che in realtà troviamo molto raramente negli scrittori antichi questo termine di guerra sociale. In realtà spesso, almeno più spesso di altre definizioni, noi troviamo nelle fonti antiche il termine bellum marsicum, la guerra dei marsi. I marsi sono una popolazione dell'attuale Abruzzo, della zona di Avezzano e particolarmente reputati e che avevano molto spesso costituito la massa d'urto determinante in molte guerre romane, ma al tempo stesso i marsi erano una delle prime popolazioni dell'Abruzzo che era stata integrata da Roma attraverso una alleanza già alla fine del IV secolo e che tra l'altro adotta molto precocemente il latino. È caratteristico che quindi siano proprio i marsi a dare il nome alla guerra che poi tra l'altro, almeno nella sua prima fase, si svolse in gran parte proprio nella zona marsica, intorno ad Alba Fucens, alla colonna latina di Alba Fucens, come vedremo. L'argomento è dunque la guerra sociale, ma soprattutto il significato che questa guerra assume secondo due parole d'ordine, potremmo chiamarle due formule schematiche, sono appunto consortium civitatis o libertas, li esamineremo più tardi, si tratta di due termini oppositivi in qualche modo, da un lato consortium civitatis, la cittadinanza, dall'altro la libertas che in questa accezione significa non la cittadinanza ovviamente, ma la liberazione da Roma, l'autonomia. Quando inizia la guerra sociale e qual è il motivo, l'elemento scatenante? Siamo nel 91 a.C. Siamo cioè praticamente 34 anni dopo l'episodio già ricordato di Fregelle, della rivolta di Fregelle, è un episodio analogo, nel 125 il partito di Gaio Gracco aveva tentato di far passare una legge che concedeva la cittadinanza ai latini, questa legge era stata respinta e ciò aveva provocato la rivolta di Fregelle. Ora il discorso è diverso, non si tratta più solo dei latini, si tratta degli italici, anzi i latini non sono più interessati alla guerra sociale perché le aristocrazie latine, come sappiamo, avevano ottenuto già la possibilità di avere la cittadinanza, quindi in realtà i latini non partecipano alla guerra o partecipano dalla parte di Roma. Gli altri italici invece scatenano la guerra in un momento preciso, cioè quando appunto nel 91 a.C. il tribuna della plebe Livio Druso propone un progetto di legge al voto dei comizi che prevede la concessione della cittadinanza a tutti gli italici. È ovvio che questo ha ovviamente un retroterra che risale molto indietro, è ovvio che ci sono un partito favorevole a questa rogazia, a questo progetto di legge, a Roma stessa è un partito contrario. Succede però che al momento in cui la legge deve essere votata e che si manifesta a Roma un forte consenso con un afflusso massiccio di italici per sostenere la legge, proprio in un bagno di folla che circonda la sua casa, Livio Druso viene assassinato nella confusione, una pugnalata lo colpisce, muore senza che si possa scoprire l'assassino. È evidente comunque la matrice politica del delitto, nessuno su questo si fece illusioni, è ovvio che la mano fu armata dal partito contrario a questa concessione. Questo è l'episodio scatenante, quello che dà origine alla guerra, gli italici ormai convinti che la legge non sarebbe più stata votata, scatenano il conflitto. Tuttavia come esiste a Roma un partito favorevole e uno sfavorevole alla cittadinanza agli italici, così anche in Italia esistono due partiti, non tutti gli italici sono ugualmente interessati ad ottenere la cittadinanza. Vedremo più avanti che la divisione non passa soltanto tra popolazione e popolazione, tra città e città, ma passa all'interno delle stesse popolazioni e delle stesse città e vedremo che c'è una differenza interna, sociale tra partigiani dell'una e dell'altra posizione. Qui voglio intanto però parlare di un altro fatto, cioè del fatto che alcune popolazioni italiche erano favorevoli e altre certamente non interessate a ottenere la cittadinanza. Quest'ultimo è certamente il caso di zone che abbiamo considerato particolareggiatamente nella lezione precedente, cioè proprio l'Etruria e l'Umbria. Sappiamo che l'Etruria e l'Umbria parteciparono solo tardi e molto marginalmente alla guerra, anche se poi ottennero gli stessi vantaggi degli altri italici. Ci si è domandati perché? Perché gli Umbri e gli Etruschi sono contrari? Probabilmente la risposta è quella che è stata data da uno studioso italiano, Emilio Gabba, che la spiega con l'organizzazione stessa della società etrusca e della società Umbra. Del resto c'erano dei precedenti precisi, li ricorderete, cioè le rivolte di Volsini e di Faleri che erano rivolte destinate a evincere, a espellere le aristocrazie dominanti di queste due città, un'etrusca e l'altra falisca, rivolte gestite dalle classi subalterne che in Etruria e anche nel paese falisco erano organizzate, erano strutturate secondo modelli ancora molto arcaici, cioè praticamente con una classe dirigente molto ridotta e una massa della popolazione ridotta quasi allo stato servile, cioè senza mediazioni di classi medie. Questo determinava appunto un attardamento culturale e sociale rispetto al resto dell'Italia. Tutto questo spiega la ragione per la quale le aristocrazie umbre ed etrusche non desideravano l'accesso alla cittadinanza, in particolare non desideravano che accedesse alla cittadinanza il popolo, le classi subalterne locali. Quindi in un certo senso anche in questa situazione in cui sembra che ci siano delle fazioni diverse a seconda delle diverse partizioni etniche, etrusche e umbri da una parte e altri cittadici dall'altra, in realtà non si tratta di questo, si tratta di motivi che investono la struttura stessa della società, sono motivi sociali, non etnici. Questo delle diverse posizioni a seconda del diverso livello sociale riguarda anche le parole d'ordine che costituiscono la base del discorso che viene fatto appunto a livello ideologico nel corso della guerra sociale. La parola d'ordine usata per indurre le classi subalterne poco interessate alla cittadinanza, a differenza delle élite, fu libertas. In questo caso libertas nel senso più vicino al nostro, nel senso di autonomia, indipendenza, libertà dal dominio romano. Dunque, in conclusione, se consideriamo livelli sociali diversi, capiamo parole d'ordine diverse. Nella guerra sociale convissero due finalità diverse che esprimono anche diversi interessi e diverse ideologie, libertas e consortium civitatis. guerra di indipendenza da Roma da un lato, il contrario, inserzione e assimilazione a Roma dall'altro. Sono parole d'ordine che spesso permettono di far marciare le truppe anche in direzioni che non sono adeguate ai loro interessi, anche spesso contrarie, ma questo, come dire, succede, credo, in tutte le guerre. Questa ideologia di libertas, in fondo, traspare anche da documenti di enorme interesse, come per esempio la monetazione coniata dagli insorti italici. Gli insorti italici si costituirono come uno Stato, come uno Stato opposto a Roma e quindi spesso proprio anche come modello calcato sul modello di Roma. E qui c'è un paradosso normale che rivela proprio fino a che punto gli italici erano romanizzati, perché anche nella loro affermazione di indipendenza i modelli alla fine non possono essere altro che i modelli romani rovesciati, ma sempre i modelli romani. E quindi fu creata una capitale, poi vedremo, e fu coniata una moneta, la moneta degli insorti italici. E in una di queste monete appare il toro italico che incorna la lupa romana. Questa moneta, il toro italico, la lupa romana è ovvio. Il toro italico richiederebbe una lunga spiegazione, sta di fatto che la parola stessa Italia era spiegata con una pseudo-itemologia come derivata dalla parola vite liu, che ha la stessa radice di vitello. Quindi il simbolo della confederazione italica è il toro, il simbolo di Roma è ovviamente la lupa. Allora questo spiega perché le monete degli insorti rappresentino appunto, come vedete, il toro che incorna la lupa e vedete in basso la scritta in osco, papi, che è il nome del monetiere, un papius, evidentemente nome sannita che ebbe un'importanza notevole nella guerra. I papi sono uno dei più grandi clan sannitici. Ecco quindi che questa moneta rappresenta proprio, come dire, una delle parole d'ordine, una delle finalità della guerra, quella che poi in realtà era la falsa finalità, cioè appunto la vittoria sul Roma come distruzione di Roma. E questa ideologia continuò anche nel corso delle guerre civili, quando i sanniti combatterono dalla parte di Mario e a un certo punto attaccarono Roma dicendo che bisognava, per sconfiggere i lupi romani, distruggere lo stesso covo da cui questi lupi partivano, cioè Roma. Quindi c'è proprio quest'idea di indipendenza che si risolve nella distruzione di Roma, che è un'ideologia totalmente diversa, come capite, invece della richiesta proprio anzi di integrarsi in Roma. Questa moneta riflette questa parola d'ordine di combattimento in qualche modo, morte ai lupi insomma, in qualche modo e quindi morte ai romani. Sappiamo che gli insorti si dotarono di una capitale, questa capitale fu Corfinium, che è un centro peligno della valle di Sulmona, prossima a Sulmona e questa capitale venne ribattezzata col nome benaugurante di Italia. La scelta di una capitale, l'organizzazione degli insorti talici come uno Stato con una capitale, in qualche modo tendeva a riprodurre rovesciata, la realtà di Roma stessa. E' una cosa che spesso vediamo, cioè che in una situazione di egimonia culturale la ribellione contro uno Stato dominante non può che riflettere proprio per esigenze culturali, in qualche modo, la stessa ideologia dello Stato dominante. Cioè il modello degli insorti a Roma contro Roma non finisce per essere la stessa Roma. E' come un gioco di specchi, in qualche modo, tra Roma e gli italici. Le ragioni che portarono alla scelta di Corfinium non sono conosciute, però forse un'osservazione della posizione geografica di questa città può darci qualche elemento di comprensione. Corfinium si trova all'estremità della Valle Peligna opposta a quella di Sormona, nel punto dove si incrociano delle vie di traffico di fondo valle, una proveniente dalla Marsica, cioè dalla zona di Avezzano e diretta verso la costa, verso la zona di Teate, l'attuale Chieti. L'altra è quindi che collega in qualche modo la zona tirrenica con la zona adriatica ed è una via creata da Roma stessa, la via Valeria, che prolunga la via Tiburtina. E dall'altra, invece, la via che attraverso la valle di Sulmona e l'altopiano delle Cinque Miglia porta poi nel centro del Sannio Pentro, cioè nell'attuale Molise. Quindi all'incrocio fra queste vie, che danno poi accesso a dei passi appenninici, si trova Corfinio e quindi è proprio la centralità del luogo, credo, aver determinato la scelta di un centro che fino ad allora non aveva rivestito particolare importanza. Sappiamo poco di questa città che è occupata ancora oggi da un centro moderno che ha conservato il nome antico, Corfinio, e che ha ricoperto in pratica tutto il centro antico. Quello che vedete sulla sinistra è appunto questa zona sopraelevata che costituiva probabilmente il nucleo centrale della città. Come vedete la presenza di tutto un urbanismo medievale e moderno non permette alcuna esplorazione e quindi probabilmente non sapremo mai molto di Corfinio. Evidentemente ci furono interventi edilizi di grande importanza e anche da dire che la breve durata della guerra probabilmente non permise che questi lavori fossero portati a termine, anche perché poi Corfinio fu presa dai Romani e la capitale dovette essere trasferita altrove come vedremo subito. Ma torniamo ora all'inizio della guerra. Il motivo scatenante come abbiamo visto fu costituito dall'assassinio di Viodruso e quindi dalla caduta del progetto di legge da lui promosso che appunto prevedeva l'accesso alla cittadinanza romana di tutti gli italici. Questo omicidio di cui erano chiare le motivazioni determinò praticamente l'immediato inizio della rivolta. È interessante proprio questa risposta immediata che ci assicura che era preparata da tempo. È ovvio che dovevano esistere rapporti, informazioni a livello di tutta l'Italia fra i vari insorti perché è evidente che dopo l'esperienza di Fregelli nessuno sarebbe andato avanti da solo. E quindi certamente ci fu una coniurazio, cioè noi diremmo una congiura, coniurazio significa il giurare insieme, c'è una serie di ambascerie tra le varie zone italiche con il fine di scambiarsi progetti di intervento nel caso che l'Ogazio di Luso fosse finita male, che poi avvenne. Quindi tutto era preparato e la rivolta fu immediata. Iniziò in particolare con un episodio di uno dei primi teatri di questa guerra, cioè Ascoli Piceno, appunto nel Piceno, attuale Marche Meridionali. Appena arrivarono le notizie da Roma, gli abitanti di Ascoli si misero a cercare tutti i cittadini romani presenti in città e li massacrarono. Questo fu un atto ovviamente irreparabile che rese la guerra inevitabile e immediatamente provocò l'intervento dell'esercito romano. La serie di Ascoli è fra gli episodi della guerra uno dei più conosciuti, durò a lungo e fu praticamente diretto da un generale romano di origine epicena, Pompeo Strabone. Pompeo Strabone è il padre del famoso Pompeo Magno, l'avversario di Cesare. Sappiamo che si tratta di una famiglia originaria del Piceno, probabilmente coloni romani del Piceno e la scelta di questo generale è proprio determinata, direi certamente, dalla conoscenza della regione che gli aveva. Di questa guerra ci restano anche documenti archeologici e epigrafici di grande interesse, per esempio sono state scoperte intorno alla città una quantità, un certo numero di ghiande missili, si tratta di proiettili fusi di piombo che venivano lanciati con la fionda e sui quali venivano iscritti vari insulti ai nemici, insulti anche piuttosto pesanti e che toccavano anche fatti personali. Poteva essere coinvolta anche la moglie di Pompeo Strabone e cose del genere, una tradizione italica del resto che ha avuto continuità fino a oggi. Ma l'altro documento, forse certamente più importante, è molto interessante proprio sul piano della cittadinanza, è una tavola di bronzo trovata a Roma, proprio in cui è inciso un decreto del consul, cioè di Pompeo Strabone, che conferisce la cittadinanza a una turma saluitana. Bisogna intenderci su questo. È chiaro che uno dei principali handicap delle forze romane era proprio la cavalleria. Come ricorderete, nell'esercito romano i soci fornivano tre volte più cavalieri che i romani. Quindi la cavalleria era sostanzialmente fornita dagli italici e del resto i romani non furono mai buoni cavalieri e si tendevano a ricorrere anche a forze estraitaliche, non solo la cavalleria numidica per esempio. Ma proprio questa lacuna dell'esercito determinò la richiesta di aiuti da popolazioni estraitaliche e in particolare spagnole. Questa turma saluitana di cui si parla nell'iscrizione è proprio un gruppo di cavalieri ispanici che combatté sotto il comando di Pompeo Strabone all'assedio di Ascoli e essendosi comportato valorosamente, dice l'iscrizione, ottenne alla fine della guerra il conferimento in via del tutto eccezionale della cittadinanza italica. Si tratta di uno dei primi episodi di concessione di cittadinanza romana a una popolazione non italica, ispanica appunto. E' chiaro che contemporaneamente all'assedio di Ascoli le operazioni si svolsero in molti altri teatri. I romani erano praticamente circondati, la zona controllata da Roma era circondata dalla zona italica. Questo dava tutto compreso un vantaggio ai romani. Secondo la tecnica militare i romani potevano agire per linee interne, cioè spostare rapidamente contingenti di truppe da un lato all'altro del fronte molto più rapidamente di quanto potessero farlo italici che erano dispersi su un territorio molto più ampio. Comunque teatri di operazioni furono sicuramente la valle dell'Iri, anche se non ne sappiamo quasi nulla. E proprio a questo proposito va citata anche un episodio che narra Cicerone e che racconterò immediatamente. Dopo l'assedio e la presa di Ascoli quindi vediamo che gli italici a loro volta assediarono alcune coloni latine come Alba Fucens e Isernia. La cosa è molto interessante perché, come ricorderete, non molti anni prima, alcuni decenni prima, proprio la rivolta contro Roma era stata avviata da una colonia latina, Freggelle. In quel caso erano proprio i latini che chiedevano la cittadinanza. E noi sappiamo che proprio, secondo l'ipotesi, proprio al momento della conquista di Freggelle, proprio per distaccare le classi dirigenti di Freggelle dalla popolazione, i romani concessero ai latini di poter ottenere la cittadinanza romana nel caso che fossero stati magistrati nella loro città di origine. Questo tolse qualsiasi drammaticità alla richiesta di cittadinanza da parte dei latini, i quali, naturalmente si capisce, le classi dirigenti latine, potevano con grande facilità ottenere la cittadinanza e quindi, come dire, non parteciparono alla guerra sociale perché non avevano nessun interesse di parteciparvi. Questo spiega perché, appunto, le colonie latine furono fedeli a Roma e questa fedeltà provocò l'assedio, l'attacco dei soci. Nel caso di Alba Fucens e di Asernia le nostre fonti sono scarsissime. Non sappiamo neppure se Alba Fucens fu presa. Molti storici pensano che questo sia avvenuto, ma in realtà non ci sono argomenti favorei, anzi è molto probabile che Alba Fucens abbia resistito fino alla fine della guerra senza essere presa. Il motivo per cui si è pensato a una cattura di Alba Fucens è dovuto agli scavi archeologici, ai risultati degli scavi archeologici fatti dai belgi che hanno rivelato nel primo secolo una notevole distruzione della città, una serie di incendi e una ricostruzione successiva che sono stati interpretati in rapporto con la guerra sociale, ma in realtà è sicuro che si tratta di un episodio più tardo. Quindi certamente Alba Fucens non fu presa, mentre l'altra colonia latina di Isernia fu presa dagli insorti e anzi nel momento in cui gli insorti dovessero abbandonare la capitale originaria, cioè Corfinium italica, essi poterono trasferire la capitale a Isernia, in pieno sannio, in una città già sannitica, che è un centro già sannitico, poi però è divenuto colonia latina. E quello che possiamo vedere appunto è che piano piano la spinta romana determinò appunto lo spostamento delle forze principali dei soci verso sud, cioè verso il Murise, verso il Sannio e quindi verso Isernia. Esiste un documento straordinario del periodo iniziale della guerra e questo documento non è altro che un racconto che fa Cicerone. Cicerone era, come ricorderete, un cittadino di Arpinum. Arpino è una città originariamente volska del Lazio meridionale, attuale provincia di Fosinone, che ottenne precocemente la cittadinanza romana Optimo Iure nel 188 a.C., quindi sia Mario che Cicerone, originari di Arpino, erano fin dalla nascita, ma anche loro padre, ma anche loro nonno, cittadini romani. Quindi Cicerone partecipa alla guerra sociale, è giovanissimo, è un tiro, è un coscritto, dalla parte dei romani. E raccolto un episodio, un aneddoto assolutamente straordinario. Nel corso di una pausa della guerra, i due comandanti, quello romano e quello italico, decretarono appunto una tregua d'armi e si incontrarono pacificamente in una tenda e discussero a lungo gli argomenti che non avevano rapporto con la guerra, molto amichevolmente. Questo non deve stupire, perché in effetti, quanto abbiamo visto in precedenza, ci dimostra che praticamente l'inserimento degli italici, soprattutto delle aristocrazie italiche, all'interno della sfera romana era ormai quasi completamente realizzato. Quando noi vediamo italici che vestono la toga a Delo o che appunto si presentano, scrivono il latino, è chiaro che tutto questo ci permette di identificare un rapporto strettissimo, che è un rapporto di tipo economico, di tipo sociale, di tipo ideologico, culturale, che a un certo punto si rompe con questa guerra, per cui poi i due eserciti che si affrontano sono eserciti sibili, sono eserciti spesso di amici, talvolta addirittura di parenti, esistevano spesso alleanze matrimoniali tra famiglie italiche e famiglie latine o romane. E proprio per questo la guerra fu durissima per Roma, perché opponeva due eserciti, eserciti assolutamente quasi identici, dotati dello stesso armamento, con le stesse disposizioni tattiche, con la stessa cultura in qualche modo militare e quindi all'inizio praticamente Roma subì confitte terribili, anche perché gli italici combatterono quasi sempre su terreni che conoscevano meglio, a casa loro in qualche modo, e poi perché erano, tutto compreso, più numerosi. dopo questo primo anno che fu micidiale per Roma, ci furono comandanti uccisi, vere e proprie disfatte. Il Senato ovviamente tentò la carta diplomatica che era già riuscita nel caso di fregelle, cioè quello di tentare di dividere il fronte dei soci attraverso appunto trattamenti di carattere diverso. Il tentativo andò a buon fine, l'altra parte non era difficile perché noi sappiamo che in effetti tra gli italici esisteva una minore compattezza, tutto compreso anche nell'esercito romano, l'esercito romano era tutto compreso, combatteva anche per la vita ed era un esercito molto omogeneo. Bene o male bisogna dire che per quanto i soci italici avessero interesse convergenti, apparentemente noi sappiamo in realtà che esistevano profonde divisioni all'interno che abbiamo tentato di esprimere all'inizio attraverso queste due parole d'ordine di Libertas e Consortium Civitatis e su questo era facile agire. Era ovvio che tutto ciò significava una posizione moderata e una posizione radicale. Consortium Civitatis significava integrazione, quindi disponibilità a trattare se si otteneva quello che si voleva. Libertas significava scontro distruttivo, eliminazione dell'avversario. È evidente che queste due posizioni stettero bene insieme all'inizio, ma man mano che Roma tentò di effettuare operazioni diplomatiche in direzione soprattutto della posizione moderata ovviamente, che era poi anche la posizione delle classi dirigenti italiche e riuscì a distaccarne alcuni. Tutto questo determinò poi il lento sfaldamento della compagine italica. Ovviamente alla fine rimasero ad opporsi a Roma soprattutto i radicali, quelli che volevano la sua distruzione, ma Roma aveva già concesso la cittadinanza a molti gruppi che finirono per distaccarsi dagli altri soci. Questo spiega perché le leggi che diedero poi la cittadinanza agli italici furono più di una e furono scalate nel tempo, proprio al fine di provocare questa divisione all'interno della compagine italica. La guerra durò due anni, due lunghissimi anni sanguinosi e alla fine gli italici si arresero, ma ottennero la cittadinanza romana. Siamo davanti in fondo a una sorta di paradosso. I motivi per cui, almeno uno dei motivi, il motivo in realtà più importante per il quale la guerra era cominciata era proprio il rifiuto di concedere la cittadinanza da parte di Roma. Ora, nonostante la sconfitta, perché gli italici furono sconfitti, ottennero quello che desideravano. Questo potrebbe sorprendere soltanto se noi non riflettessimo a un fatto di nuovo, come nel caso degli italici, anche Roma da un certo punto di vista non presentava politicamente, non militarmente un fronte compatto, perché noi, l'abbiamo già detto, a Roma esisteva un partito favorevole alla cittadinanza italica e di questo partito faceva parte ovviamente il Livio Ruso, quello che aveva proposto la legge, ma che era appoggiato da un certo numero di cittadini romani. Questo partito però si rivelò meno forte, cioè perdente a Roma e prevalse il partito radicale anche qui che voleva negare la cittadinanza. È evidente che la durezza della guerra e le gravissime sconfitte che caratterizzarono il periodo iniziale determinò un rovesciamento dei rapporti di forza sui partiti che si affrontavano a Roma, cioè il partito favorevole alla cittadinanza ebbe la meglio per motivi che sono comprensibilissimi, cioè possiamo immaginare cosa si dicesse a Roma. I moderati dicevano ai radicali, vedete se noi avessimo concesso la cittadinanza non ci troveremmo nei guai in cui ci troviamo adesso. Quindi è chiaro che quelli che poi concretamente combattevano, cioè i cittadini romani, che erano anche elettori e quindi eleggevano i magistrati a seconda delle situazioni politiche che venivano a determinarsi, appoggiarono piuttosto le colombe che i falchi. E quindi tutto ciò si concluse con la concessione della cittadinanza di Italici che venne promessa ancora nel corso della guerra. Di colpo quindi accadde questo episodio fondamentale che appunto costituisce una svolta epocale nella storia dell'integrazione dell'Italia antica all'interno della sfera romana. L'episodio finale che in qualche modo si caratterizza in modo diverso rispetto ai precedenti. Abbiamo visto che in fondo l'integrazione e la romanizzazione è costituita da vari fenomeni diversi tra loro, variamente intrecciati, a volte prevale un aspetto di autoromanizzazione, a volte prevale un aspetto di concessione romana, ma non c'è omogeneità, è un processo che avanza lentamente attraverso una serie di episodi molto diversi tra loro, per niente sistematici. Invece quello che viene dopo la guerra sociale è un atto preciso, formale, definitivo, un atto politico che di colpo da un giorno all'altro include all'interno della cittadinanza romana l'intero penisola italica. Per noi che siamo abituati all'esistenza degli stati nazionali è difficile cogliere la rilevanza di questo episodio, ma nel mondo antico era una cosa quasi inconcepibile. La cittadinanza riguardava soltanto la città, il suo territorio e eventualmente delle frange intorno. Concedere la cittadinanza a un'intera regione, un'intera penisola come l'Italia, oltretutto composta di popolazioni così diverse, così varie, era un fatto nuovo che veniva a creare una sorta di città gigantesca, una città estesa a tutta la penisola italica, fatto sconvolgente e difficile da gestire. Questo forse spiega anche la resistenza romana che non era determinata solo da considerazioni egoistiche, era certamente determinata anche dalla convinzione che appunto allargare fino a tal punto, diluire tanto la cittadinanza avrebbe provocato gravi conseguenze sulla struttura dello Stato romano e questo non c'è dubbio, lo veremo meglio poi in seguito, è un fatto. La guerra sociale è un episodio che poi attraverso tappe successive delle guerre civili porterà a modificazioni profonde istituzionali, al passaggio dalla Repubblica all'Impero. Quindi era un cuneo inserito nel funzionamento normale delle istituzioni che non poteva alla lunga che determinare il collasso di queste istituzioni, perché queste istituzioni erano concepite per una città Stato, non erano concepite per una cittadinanza di carattere quasi statale. D'altra parte c'è anche un altro aspetto da considerare, cioè il fatto che, ripeto, questa diciamo proprio diluizione della cittadinanza finiva per svuotare la cittadinanza stessa di molte delle sue caratteristiche, per esempio, è ovvio, ormai tutti gli italici avrebbero goduto del diritto a un processo di appello, la provocazione, il populum che è uno degli argomenti fondamentali della richiesta di cittadinanza. Ma per quanto riguarda i diritti politici attivi e passivi, ma soprattutto attivi, cioè il diritto di votare e di eleggere i magistrati, che significato aveva per un cittadino romano che abitava, non so, in fondo alla Calabria o a Rimini avere il diritto di voto quando, voglio dire, immaginiamo la situazione dei trasporti nel mondo antico, insomma andare dalla propria città, a Roma si votava spessissimo tra l'altro, non c'erano i tempi tecnici, era impossibile raggiungere Roma, a Roma il voto era diretto, non esisteva altra possibilità che essere presenti fisicamente in Roma, ecco vuol dire che per una stragrande maggioranza degli italici, per motivi proprio di logistici e anche di disponibilità economica, i più poveri non si potevano permettere di abbandonare tutto per andare ogni tanto a votare a Roma e quindi è evidente che questa cittadinanza poi veniva svuotata di una delle sue caratteristiche più importanti, cioè quella di eleggere i magistrati e quindi determinare la politica dello Stato romano, quindi è una cittadinanza dimezzata, una cittadinanza diluita, non è più la vecchia cittadinanza romana e questo spiega perché nascono due tipi di cittadino romano, i cives romani domo Roma e gli altri, i cives romani domo Roma sono i cittadini romani che abitano a Roma, cioè quelli che in fondo hanno più potere degli altri perché stando a Roma riescono a determinare, a pesare sul piano politico più degli altri, ci sono cittadini di prima categoria e cittadini di seconda categoria e sono questi stessi cittadini romani domo Roma che hanno diritto per esempio alle distribuzioni gratuite di frumento che hanno diritto agli spettacoli, il celebre panem et circenses. Dunque la cittadinanza in realtà resta divisa, restano livelli diversi, restano in fondo due tipi di cittadinanza non equiparabili completamente. Del resto questa esistenza di cives romani domo Roma forse spiega un modo di dire romanesco moderno che suona, son romano de Roma, cioè voglio dire non basta dire sono romano, dire sono romano di Roma significa in qualche modo tradurre il latino civis romanus domo Roma perché esistono cittadini romani che abitano a Roma e cittadini romani che non abitano a Roma.